Ancora non si sa se ci saranno concerti e festival quest'estate in Ungheria e a quali condizioni. Euronews ha cercato di sapere dal vice primo ministro cosa stia progettando il governo di Viktor Orban. La nostra domanda è stata letta alla conferenza stampa dalla portavoce del governo. Dopo quante vaccinazioni sarà possibile andare ad un concerto ad un festival? Risponde il vice premier Gergeli Guglias. Realistico dopo 5 milioni. Quindi la metà della popolazione. Gli abitanti in Ungheria infatti sono quasi 10 milioni. Ma ormai i più grandi eventi dell'estate sono già stati cancellati. Alcuni degli eventi più grandi hanno cancellato il loro programma di quest'anno come il Ziegat Festival, il Balaton Sound e il Fezen Festival. E la stessa cosa hanno fatto molti eventi più piccoli. Molti organizzatori per fortuna non mollano e speriamo che sarà davvero possibile organizzare festival almeno con un certificato di vaccinazione o con un test negativo. L'incertezza colpisce anche i musicisti. Sue Bolch è uno dei frontman della band Los Orangutanes, ma invece di fare musica ora lavora in un negozio di vestiti vintage. Entro maggio di solito conosce tutto il suo programma di concerti estivi, ma non quest'anno. In base alla mia esperienza degli anni precedenti, la maggior parte dei festival sono completamente organizzati a marzo e gli artisti già selezionati. Per quest'anno invece non si sa ancora niente. Il Giardino Kobuchi, uno dei luoghi di concerto più famosi a Budapest, ora è vuoto. La stagione sarebbe iniziata in aprile e si sarebbero tenuti i concerti sei giorni alla settimana. Ci sono molti scenari possibili, ma non c'è niente di sicuro né di ufficiare, quindi non sappiamo quali siano le intenzioni del governo, per quando poter organizzare e in quali circostanze tenere un concerto. Il nostro programma è già organizzato, ma dobbiamo continuamente riorganizzarlo e coordinarlo con le band e aspettare una data precisa di riapertura. L'incertezza in questo momento è la cosa peggiore. Gli organizzatori dei festival e delle sale del concerto aspettano solo una cosa, la data ufficiale di apertura.